oneplus nord è già finalmente riesco a parlarvene e voglio sfruttare questo oneplus nord proprio per fare un pochino di discorsi generici su oneplus perché in questi giorni è uscita anche la notizia che probabilmente oneplus farà un device di fascia economica diciamo entry level anche se credo che alla fine staremo su circa 200 euro notizia che non è stata presa bene da molti utenti perché magari facevano parte della famiglia oneplus da un po di anni facevano parte di quella esclusività e sto facendo sempre così perché è un po tutto aleatorio in realtà esclusività che si portava dietro il brand un po la apple veniva chiamata così di casa del mondo android e quindi ecca la notizia che adesso si sta un pochino più commercializzando tanti sono rimasti delusi ma in realtà io penso che questo sia un passaggio importante oggi come non mai spesso quando mi chiedono ok marco vorrei un telefono di fascia media vorrei un telefono economico sulle 200 euro che mi consigli ovviamente vai sempre a finire su quel redmi note 9 a 200 euro ti manca quel device che puoi consigliare proprio a scatola chiusa e sai che non avrà bug incredibili come capita su alcuni redmi note portare l'esperienza oneplus su tre fasce di mercato differenti che alla fine sono quelle più importanti 200 400 600 800 vabbè ormai la fascia alta è macello è una buona cosa è una buona cosa se eliminiamo i oneplus serie t quella serie che davvero non serve quasi a niente a me non hanno mai fatto impazzire perché aggiungono davvero poco all'esperienza che si aveva alla fine col oneplus serie originale adesso però basta chiacchiere perché dobbiamo concentrarci su questo oneplus nord che va a ricoprire quella fascia media delle 400 euro che in realtà è la più difficile la più difficile perché si trova in mezzo tra quei device che costano molto meno come possono essere gli xiaomi un mi 10 lite e si va poi a scontrare con magari qualche top di gamma come mi 10 che scende molto di prezzo quindi va su quelle 400 500 euro o comunque un medio gamma di qualche mese fa come per esempio l'oppo reno 2 che negli ultimi mesi sulle 250 euro ha venduto tantissimo perché alla fine ti offriva display amoled super prestazioni super batteria fotocamera con stabilizzatore ottico si trova in una posizione di mercato questo oneplus nord che non è semplice alla fine è un prodotto riuscito ve lo consiglio parliamone subito scusate per questa super introduzione dai andiamo dal momento che del prezzo ne abbiamo già parlato iniziamo subito a dare uno sguardo estetico a questo oneplus nord sì questo è il colore secondo me un po più triste molto più carino l'azzurrino spero anche in una colorazione rossa in realtà ci starebbe alla grande e comunque retro che ok rimane in vetro molto simile per esempio a un oneplus 8 ma il frame è in plastica questa è la prima cosa che davvero non mi ha fatto impazzire di questo oneplus nord perché 400 euro di smartphone ma anche di più su questa versione 12 256 ecco avere un frame in plastica non mi fa impazzire anche perché il frame è essenziale per dare resistenza a tutta la struttura dello smartphone e se uso questo comunque la prima cosa che mi ha fatto subito gridare sì che bello è il peso perché è uno smartphone finalmente che non è un mattone incredibile come per esempio il poco phone x3 ecco passando dal poco phone a questo oneplus nord ho fatto i salti di gioia perché comunque è un pochino più compattino guardate io col pollice possa arrivare presso che ovunque senza dover per forza reggere lo smartphone sotto arrivo abbastanza semplicemente ovunque non faccio fatica perché è abbastanza leggero insomma uno smartphone che è comodo da usare questa secondo me è una cosa essenziale che si sta un po perdendo ormai con smartphone da 240 grammi cose incredibili torniamo però un attimo su questo frame perché abbiamo comunque la type c 2.0 abbiamo il carrellino per le due sim non espansione e abbiamo poi lo speaker mono e già perché comunque non abbiamo un secondo speaker superiore come abbiamo per esempio su mi 10 non abbiamo un sensore a infrarossi non abbiamo il jack audio abbiamo soltanto il classico switch oneplus che ok è una cosa che apprezziamo sempre però non lo so ecco mi aspettavo qualcosina in più sul frame mi aspettavo soprattutto l'audio stereo ragazzi perché se andiamo a ascoltare qualcosa anche magari un film su disney plus notiamo che l'audio stereo è davvero povero non possiamo mollare vorrebbe dire che ciube è morto per niente oh ciube aveva il pugnale troveremo un altro modo non esiste c'era solo un indizio per il puntatore ed era quello o almeno il volume non è neanche malaccio comunque è un buono speaker non abbiamo quelle distorsioni effetti radio line eccetera eccetera ma un poco phone che costa praticamente 200 300 anche a volte euro in meno ha un audio stereo che se lo mangia al oneplus e quindi ecco su dispositivi da ormai 200 euro abbiamo un ottimo audio stereo me lo aspetto anche su un oneplus nord dal doppio del prezzo passiamo ora a parlare di come sblocchiamo questo oneplus nord anche con una pellicola applicata riesca a sbloccare tramite fingerprint davvero senza il minimo problema super rapidamente bella l'animazione e ovviamente possiamo sfruttare anche lo sblocco tramite le fotocamere per uno sblocco 2d e una volta sbloccato il oneplus nord ci troviamo davanti a un display che è davvero niente male io ne ho soffrito molto soprattutto lato gaming dato che in questi giorni è uscito genshin impact un titolo open world che ha davvero una bella grafica e vi posso dire che ecco giocare su questo display è stata davvero una buona esperienza anche perché comunque è un super amoled con risoluzione full hd con refresh rate del display a 90 hertz e già alla fine è questa grande novità no refresh rate del display aumentato a 90 hertz rispetto ai canonici 60 che comunque sono selezionabili se vogliamo risparmiare un po di batteria ma insomma io vi consiglio sempre di lasciare questi 90 hertz anche perché non consumano poi così tanta autonomia batteria rispetto ai 60 ma avete un'esperienza davvero fantastica è un piacere utilizzare questo oneplus nord anche grazie al processore ma ci arriveremo prima voglio farvi qualche considerazione su questo refresh rate perché secondo me avere un ottimo display amoled con refresh rate soltanto tra virgolette a 90 hertz è molto meglio di avere magari un display ips come può essere sul poco phone x3 ok in questo caso abbiamo un refresh rate a 120 hertz ma alla fine abbiamo un display ps che magari lo incliniamo un po e perde subito ci andiamo a vedere qualche film su disney plus e insomma non abbiamo un'esperienza fantastica come potremmo avere sul oneplus nord quindi per me meglio amoled 90 hertz rispetto ai ps 120 144 le applicazioni social comunque girano bene anche perché a bordo abbiamo il qualcomm snapdragon 765g adreno 620 12 gb di ram 16 bit non quad channel però e abbiamo poi 256 gb di storage in questa versione f2fs come file di sistema ma attenzione perché sono memorie ufs 2.1 quindi non 3.0 anche in questo caso un po una mancanza sì però vabbè dai escludiamo ciò le applicazioni social avete già avuto modo di visualizzare che girano davvero alla grande le apro zero lag zero problemi che sia facebook che sia instagram davvero alla perfezione girano e anche per quanto riguarda il gaming per l'appunto genshin impact che è un titolo pesantissimo gira alla grande senza problemi qualche piccolo calo di frame rate ma ci sta lo fa anche su uno snapdragon 865 mi ha soddisfatto la batteria in utilizzo wifi con molto gaming streaming con twitch come potete vedere un po di streaming su chrome su circa 21 ore di utilizzo stava al 25 per cento e ho circa 6 ore di display ore di display che sono scese in una giornata con molto 4g maps e in pc vari sono scese praticamente con un giorno e un'ora di utilizzo al 21 per cento queste sono le applicazioni con consumo maggiore e ecco alla fine 16 per cento di display 3 ore e 58 quindi avrei fatto circa 5 ore di display a fine giornata non perdo molto tempo a commentare la ui one plus perché ha comunque sempre tutti i suoi pregi quell'android tra virgolette stock però con sempre qualche funzioncina che ti fa comodo qualche applicazione rivista mi piace molto la ricerca rapida che abbiamo subito qui all'interno del launcher con anche le varie categorie tutto gira divinamente poi c'è la modalità colorful che è davvero carina è un misto tra tema scuro tema chiaro anche un po colorato perché se entro nelle impostazioni potete vedere che ci sono tutte le iconcine con un colore diverso insomma un'interfaccia grafica che mi piace molto l'unica cosa è che le patch di sicurezza sono un po arretrate abbiamo la versione android 10 ma patch molto arretrate ancora quelle di luglio passiamo ora a parlare di fotocamere perché sul retro ne abbiamo ben 4 seppur effettivamente utili sono soltanto due la camera principale che è la stessa di oneplus 7t 7t pro oneplus 8 e abbiamo poi una camera ultra wide da 8 megapixel nulla di che la vedremo tra poco e quindi alla fine abbiamo questa 1x e diciamo la 0,6x infatti come potete vedere c'è anche il tasto 2x ma è un tasto digitale lo zoom è digitale non abbiamo una camera effettivamente che ci può andare a simulare quella lunghezza focale abbiamo anche due fotocamere all'interno del notch no l'avrete ormai visto e rivista all'interno di questo video e di altri abbiamo due fotocamere perché c'è la principale e c'è anche la camera più ultra grandangolare si perde un po di qualità ma può essere comoda in alcune situazioni state vedendo qualche foto al volo che ho fatto in questi giorni non ne ho fatte in realtà tantissime perché alla fine risultate per l'appunto quello che abbiamo già commentato col oneplus 7t 7t pro un buon risultato la stabilizzazione ottica ci aiuta molto soprattutto in registrazione video che sono super stabili con gli ultimi aggiornamenti le foto però secondo me rimangono sempre un passettino indietro rispetto al mi 10 ovviamente abbiamo la nfc a disposizione abbiamo il bluetooth 5.0 abbiamo il gps che funziona alla grande ma per esempio non abbiamo la ricarica wireless ormai c'ero quasi abituato insomma alla fine questo oneplus nord è un telefono che va bene quasi a 360 gradi e il suo vantaggio è avere un po' tutte queste caratteristiche che in genere dobbiamo andare a cercare su telefoni diversi esempio vogliamo il 765 g a basso costo andiamo sul mi 10 light ma il mi 10 light non ha il refresh rate magari a 90 hertz non ha lo stabilizzatore ottico dettagli che magari andiamo a cercare lo stabilizzatore su un reno 2 insomma va a unire varie caratteristiche interessanti le mette all'interno di un telefono senza però spiccare in qualche caratteristica di tanto non c'è una caratteristica unica di questo oneplus a questo prezzo e vabbè dai ci vediamo tra qualche giorno con il poco phone anche su di lui ho qualcosa da dirmi dai appuntamento a tra qualche giorno ciao ciao